Ben ritrovati, amici, tifosi, bianco scudati. Ben ritrovati, ragazzi. Bene, vorrei trovare le parole giuste, adeguate, per poter iniziare questo video, quest'analisi, questo commento a riguardo di questa domenica che concludeva la trentatresima giornata del girone A di 6 e C, quattordicesima giornata del girone di ritorno. Ne mancano ancora cinque e aggiungerei, purtroppo, ne mancano ancora cinque e aggiungerei anche, purtroppo. Ragazzi, un'altra figura di merda, un'altra figura di merda e aggiungerei, in questo luogo c'è anche troppa luce. Troppa luce per i miei gusti, per i miei standard. Perché questo video sarebbe stato da registrare al buio completo. Al buio completo. Tutto il video registrato al buio. Perché questa squadra, quest'allenatore, quest'oggi, non merita, non meritano nulla. Nulla. Due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro. Una squadra che non vince da inizio mese. Dallo scorso 3 marzo, in cui sono venuto in questo luogo, in questa macchina, a gridare, a gioire per una vittoria che aveva riaperto il campionato. Siamo finiti a meno 12, ragazzi! A meno 12! A meno 12! La prossima settimana, sabato prossimo, il Mantova festeggia la promozione. Al 30 di marzo. Allora, questa sconfitta non cambia assolutamente il discorso di questo campionato. Non lo cambia perché il campionato era già segnato. Ma ragazzi, dobbiamo ringraziare Fiorenzuola e Legnago se la Vicenza in questo momento è a meno 8. Il Vicenza che sta rosicando, si stanno mangiando le mani e anche si stanno mettendo le mani nei capelli a Vicenza. Nei capelli se ne stanno mettendo le mani. Perché potevano essere a meno 4. Attenzione però, perché c'è una Triestina che in questo momento è a meno 13. Ma con due partite da recuperare in casa contro Alessandria e Triestina potrebbe arrivare a meno 7 con uno scontro diretto ancora da giocare all'ultima giornata. E quindi con queste cinque partite che a questo punto, con questo atteggiamento con queste previsioni io davvero la vedo male. La vedo grigia. La vedo davvero molto molto complicata. Terminare la stagione per poi azzerare tutto quanto tornare in campo a tre settimane di distanza per poi giocare due partite e uscire. E uscire, ragazzi. E uscire perché questa squadra non andrà da nessuna parte. Ragazzi, la stagione la possiamo definitivamente ritenere conclusa. Io, ragazzi, quest'oggi davvero non sono riuscito a vedere una squadra che avesse il coraggio che avesse una mentalità che avesse anche l'ambizione di poter dire ragazzi, siamo a meno 9 ce la giochiamo fino all'ultimo. Fino all'ultimo. No, quest'oggi dopo un primo tempo a livello di quello che abbiamo assistito due settimane fa a Gorgonzola contro la Giana. Ad inizio di ripresa abbiamo rischiato subito sul cross di Maggio ripropone Mustacchio e lì fa Edo in qualche modo allontana. Il palo che poi si fa notare dalle parti di Sassi con un tiro cross di Liguori con la conclusione fuori area di Zamparo e poi arriva il gol dell'avvantaggio l'imbucata di Parodi per Nepi che si gira indisturbato indisturbato serve Maggio che ripropone per Hamza Audi che tira fuori e estrae un colpo da biliardo la mente dove Donnarumma non può assolutamente arrivarci. Iotti dopo appena un minuto si divora in area di rigore il pallone del raddoppio raddoppio che arriverà per una ripartenza che è emblematica ci siamo fatti fregare così 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 ragazzi così così come fossimo birilli come fossimo birilli come fossimo birilli ci siamo fatti saltare come fossimo birilli dei birilli in campo eravamo ripartenza Audi steso in area ammunizione per Varas sacrosanta calcio di rigore altrettanto sacrosanto fischiato dal signore ancora di Roma 1 e poi ragazzi mustacchio dagli 11 metri non sbaglia 2-0 decimo gol stagionale per l'esterno di Andrea Dossena come sempre come sempre siamo riusciti ed è un peccato parlare di questo dato solamente dopo 7 minuti come sempre nella storia perché è la storia a parlare sono i fatti a parlare come sempre ragazzi siamo riusciti a far resuscitare dall'oltretomba dei morti nulla contro la Provercelli non ho nulla contro la Provercelli ma siamo riusciti a far risorgere a far rinascere dall'oltretomba dai defunti una squadra morta sepolta morte sepolta ragazzi 5 pareggi 7 sconfitte una sola vittoria nella 2024 nel nuovo anno nella prima giornata della Gio di ritorno quindi dobbiamo andare all'indietro di due mesi e mezzo quindi due mesi e mezzo dopo la Provercelli torna a vincere contro chi? contro chi ragazzi? contro il Pava è clamoroso è clamoroso mi sarei giocato la casa quest'oggi che perdavamo qui al Silvio Piola ragazzi è qualcosa di allucinante è qualcosa di allucinante non vincevano in casa dall'otto dicembre del 2023 quindi dobbiamo ancora tornare indietro nel tempo otto dicembre 2023 qualcosa di allucinante di scandaloso ragazzi siamo una squadra di merda siamo una squadra di merda poco da dire siamo una squadra di merda ragazzi non ho altro da aggiungere vorrei sapere come sempre i vostri commenti a caldo a mente fredda perché questa è una reazione a mente calda dopo aver visto una partita ancora una volta non giocata abbiamo cambiato modulo ancora una volta quindi vorrei sapere anche da voi se sono questi troppi cambi che stanno mettendo in difficoltà la squadra e a questo punto vi lascio con questa domanda Vincenzo Torrente andrebbe esonerato? la risposta la lascio a voi nei commenti come sempre nel bene e nel male in questo caso siamo veramente nel male più assoluto forza Padova grazie a tutti